Eccoci tornati, Spazio Reteo, qui da Reteo in via Cataste a Giuliano, un luogo ipertecnologico, tante curiosità da poter scoprire, veniteci a trovare e noi scopriamo, un po' come si scopre la tecnologia in questo posto, anche scopriamo i personaggi, oggi stiamo intervistando e scoprendo Emanuele Bifaro, un'intervista fotografica. Passo subito alla prossima fotografia che è questa, questo è un colpo basso però, però un bel colpo perché guarda qua, quello con la freccia è Emanuele Bifaro, nel calcio si chiama gli accosciati, quello là in basso. Noi, quelli in basso infatti eravamo, diciamo, tra virgolette, quelli un po' più scansafatiche della classe, mettiamo in questo modo quelli che... Che ricordi hai di questo liceo che è un liceo che hai fatto a fratta maggiore? Sì, io ho fatto, ecco io sono, non si può dire in questo periodo dopo Giuliano frattese, però io sono per metà Giulianese e per metà frattese, ho fatto le scuole elementari e medie qui a Giuliano e poi il liceo classico durante a fratta maggiore e qui, diciamo, questa mitica terza D. Chi ti ricordi di questa classe? Tutti, Silvio Giametta che abbiamo condiviso anche un percorso politico insieme poi ecco in azione dei giovani, Giuseppe Di Martino, Fabio, tutti i miei amici, siamo tutti quanti. Chi era Emanuele all'epoca? No, no, dico chi era. Vabbè, un ragazzo, diciamo... Però già all'epoca mi ricordo, questo è un aneddoto che ti racconto, appassionavo di storia anche dalle elementari e quindi mi ricordo i miei amici mi portavano a interagire perché la mia professoressa di storia e filosofia era, diciamo, di vedute politiche completamente diverse dai miei, diciamo la grada di sinistra e quindi i miei amici ogni giorno su magari questioni di attualità che potrebbero essere la guerra in Iraq o comunque su la questione di future o altre cose, mi diciamo, ma noi mi raccomando oggi non sappiamo niente, iniziava a porre delle domande alla professoressa e quindi aveva poi magari la professoressa di Mascellis parlavamo di tutto l'oscibio, ovviamente, quindi esaltavamo le interlocazioni. Quindi ne nasceva un confronto? Sì, sì, tra me e lei, serrato, mi ricordo. Però tu andavi bene in storia? Sì, nove avevo in storia. Nove? Sì, matematica 5. Studente diligente? Matematica 5. Ah, matematica 5, quindi proprio... Ma era scientifico? No, classico. Classico, classico. Che rapporto avevi con il latino e il greco? Normali. Secondo te sono utili? Ah, no, vabbè, sì, comunque, diciamo... Stimolano il ragionamento, come sono utili, perché comunque il latino, con la costruzione delle frasi, eccetera, quindi questo ti insegna a ragionare. Andiamo alla... questo è un colpo non basso, questo è un colpo bello. Eccola qua. Ah, ok, sì, questa è la parola di mia sorella, tutta la famiglia, al completo... La tua famiglia, questa è la tua famiglia, in un giorno di grande felicità, soddisfazione. Quanto ha influito la tua famiglia nel tuo percorso umano e politico? E anche professionale? Io devo dire la verità, la mia famiglia mi ha sempre lasciato libero di fare quello che volevo, magari non essendo d'accordo su alcune scelte, così perché, io devo dire la verità, nei primi anni di politica, io poi sono una persona molto passionale, e io ricordo che magari molti esami, che mi stavo sostenendo all'epoca la giurisprudenza, mi hanno, diciamo, un po' perché in quell'epoca, mi ricordo, quando insomma la famiglia c'era la questionaggia, la unità che era nate lì, e io ho fatto, mi ricordo, c'erano tantissime persone di Giuliano, notti lì, insonne, così, e in quell'epoca stavo facendo scienze delle finanze, l'esame di scienze delle finanze, e quindi sono stato tipo dieci giorni sulla discarica, senza studiare, così con mia mamma come una pazza, però dopo mi hanno sempre stato lasciato libero di fare ogni cosa. In questa foto c'è tuo padre? Sì. Tuo padre, insomma, meno di un anno fa, ha subito un atto di violenza abbastanza forte nel suo studio di Vialicante, tuo padre è un noto urologo della zona, un grande professionista, un bravo professionista, e quel giorno, insomma, dei malviventi sono entrati nel suo studio e lo hanno rapinato. Cosa hai pensato quel giorno, Emanuele? Che ormai tutto può succedere, cioè, purtroppo non c'era una realtà particolare che quella di Giuliano, oggi, e quando mio padre mi chiamò dicendo che ha subito una rapina in pieno giorno, alle 11 del mattino, in pieno centro a Giuliano, comunque è stato un momento particolare. Fortunatamente poi tutto si è concluso bene, nonostante qualche piccolo danno, diciamo, però poi questo ti fa riflette magari anche solo sull'ambiente in cui vivi e forse ti dà anche la forza poi di continuare a fare quello per cui, diciamo, ti batti da anni. Tanto è vero che ecco, proprio in questi giorni, con le sigle, diciamo, dei commercianti, con Fesorcenti, IGAST e tutte le altre, stiamo cercando di organizzare una manifestazione a Giuliano sulla questione sicurezza, che è comunque tanto importante per questa città. Allora, andiamo avanti, eccolo qua, nel giorno del giuramento, fare l'avvocato, quando è che hai deciso di fare l'avvocato? In che fascia d'età? No, io a liceo, più che altro, perché facendo liceo classico, poi la mia classe era sperimentale di diritto, quindi più o meno già mi stavo approcciando, ovviamente, a quello che era il diritto. Poi, pian piano, comunque, avendo questa passione per la, diciamo, la vita anche amministrativa, politica e quant'altro, comunque ho sempre pensato, diciamo, di intraprendere questa strada. Da lì poi ho iniziato l'urisprudenza Federico II di Napoli, ho fatto poi la pratica a regale in uno studio a Napoli e poi da poco, da quasi due anni, ho aperto il mio ufficio qui a Giuliano e quindi facciamo la pratica qui a Giuliano. Guardiamo questa foto, una foto che noi abbiamo trovato, abbiamo trovato, questo è il Corso Campano, è una foto dal tuo studio di Corso Campano, in uno scorcio serale e molto molto bello di questa città. Il tuo impegno, oltre che professionale, è anche come esponente di un'associazione di categoria qui nella città di Giuliano, sei molto attivo, infatti la maggior parte delle volte in cui ti chiamo, stasera ho una riunione con i ragazzi, insomma. Perché impegnarsi per la propria città? Che sembra una domanda banale, però molti si chiudono nelle loro case, nei loro uffici, nei loro negozi e basta. E invece c'è un impegno da parte tua. E il discorso di prima che ti facevo? Allora, noi non possiamo pensare che comunque, magari prima era diverso, quando iniziò la politica era abbastanza diverso perché comunque i partiti erano ancora forti. Oggi invece con l'avvento dei social tutti siamo bravi a criticare, a puntare il dito, a ribellarsi ma facendolo su Facebook oppure su Instagram. Però la gente che poi concretamente scende in piazza e si, diciamo, riposta le mani, chiede la camicia e dire ok, diamo un contributo fattivo, poi sono poche. Io sono del mio avviso, non bisogna mai delegare qualcuno e dire ok, c'è il sindaco, c'è il consiglio comunale, quindi ci pensano la nostra città. Siamo noi i primi attori affinché questa città poi possa in qualche modo migliorare. Quindi io, diciamo, qualsiasi impegno prendo poi con passione, che sia di un partito politico, che sia di un'associazione, che sia anche di un'attività imprenditoriale, perché poi, ecco, qualsiasi attività che ognuno di noi cerca poi di fare in maniera fattiva per questa città, è un qualcosa che noi doniamo a questa città. Non bisogna sorprendere, noi dobbiamo donare e far sì che poi tutti insieme possiamo crescere. Emanuele, perché sei passato con la Liga di Salvini? Perché questa scelta? Perché, l'ho accennato prima, fratelli di Italia non era più il partito che io pensavo e che comunque sognavo. La Liga di Salvini sta incarnando bene, secondo me, quello che comunque era, diciamo, il partito di destra, con alcune, diciamo, tematiche che comunque sta perseguendo, quella magari della sicurezza, dell'ordine, anche dell'immigrazione, sulla questione famiglia, sono tematiche su cui la Liga di Salvini è molto presente. E che magari, diciamo, fratelli di Italia, stando ispiegabilmente anche, dico io, all'opposizione di un governo che comunque magari sta portando avanti delle questioni che fratelli di Italia dice dall'opposizione e poi non sta sostenendo. Salvini comunque in questo periodo sta dimostrando di voler fare un partito come io lo pensavo e come io lo immaginavo in fratelli di Italia, dando spazio al merito, dando spazio ai giovani che valevano, dando spazio comunque magari a persone che siano cristalline. Perché oggi la politica è questo, in un periodo molto difficile come quello, diciamo, attuale, chi decide di fare poi, diciamo, avere una posizione politica, non solo deve, diciamo, essere cristallino, ma deve anche apparire. E quindi, diciamo, le scelte di Salvini, soprattutto dopo le liste delle europee, vanno proprio in questa direzione qui. Pensi che sia un partito che sta un pochettino tenendo alla larga le caste, secondo te? Ma guarda, io vedo di... E' un'altra piaga, dico, della politica italiana, se vogliamo. No, 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 assolutamente. Allora, questo è un partito, diciamo, questo è un governo anomalo, quello giallo verde, dei Movimento 5 Stelle e della Liga, perché comunque forse è la prima volta in 60 anni di storia repubblicana che non ci sono apparati al governo, né di sindagati, né delle famose robbie italiane. Magari, ecco, ci sono dei cittadini, nel vero senso, però, da parte dei 5 Stelle, che magari sono persone che non sono avizze alla politica, e magari da parte della Liga, dopo, diciamo, Bossi, Salvini ha effettuato un vero repulisti della Liga, tanto è bello che tantissimi sono repurti nuovi della Liga, e quindi, ecco, forse davvero questo è un partito nuovo, come io lo immagino e come io, diciamo, volevo in Fratelli d'Italia. Cambiamo decisamente argomento. C'è questa foto che ti mostro. Aspetta che è andata via, ma adesso la ripristiniamo, subito, subito. Eccola qua. Eccola qua. Una foto con degli amici. Gli amici che, insomma, hanno con te fondato un marchio, possiamo dire, è un marchio che possiamo anche dire sui fatti, un marchio di successo, se vogliamo, no? Sì, ci voglio, diciamo, ecco, è il nostro... la nostra passione serale, mettiamola in questo modo. Noi ci divertiamo nella nostra attività, perché comunque, ecco, ci pare nato in questo modo, nelle varie scene che magari abbiamo fatto, magari qualche volta anche politiche, andando a mangiare dappertutto, in ogni luogo. Ci è venuta poi, ok, ma perché non apriamo un locale e lo facciamo qui a Giuliano, dove comunque, poche di queste attività c'erano fino a due anni fa, e quindi è nata poi questa, diciamo, avventura di cipariù, che poi è cibo, passione, gioventù, lo dice tutto poi il nome. Da qui poi sembra che l'esperimento sia andato bene, tanto è bello che oggi siamo anche a fratta maggiore e a fuori grotta. Quindi avete conquistato anche la città di Napoli. Abbiamo conquistato una parola grossa. State conquistati. Siamo arrivati a Napoli. Siamo arrivati a Napoli. Siamo giunti a Napoli. Allora, l'ultima domanda che ti faccio è una domanda doverosa, perché nei giorni scorsi sono state, insomma, fatte le ipotesi da alcuni colleghi della stampa. Allora io faccio così, non pongo domande in out-out, faccio una domanda, insomma, un po' aleatoria. Ma se tu dovessi un giorno, per caso, innanzitutto diventare sindaco di una città grande come Giuliano, sindaco giovane, le due o tre cose che faresti subito, il primo giorno? Subito? Sì, il primo giorno, cioè insediato. Ma guarda, io forse, nel senso che quelle di ordinare l'amministrazione poi ci sarebbero tante cose da fare, però io credo che un sindaco, ma la politica attualmente, debba far sognare i cittadini, perché si è perso questo elemento. E in un territorio così grande come Giuliano c'è bisogno di due, tre progetti che la mettono al centro di quello che poi è il progetto che ti dicevo all'inizio, quindi Campano. Noi abbiamo un territorio smisurato che va dalle colonne di Giuliano fino al mare, ma che è scopregato tra le parti poi. Quindi, una cosa che ho sempre immaginato, ora magari sarà realizzabile, però magari con l'aiuto di tutti, magari anche del governo nazionale e del governo regionale, una tratta ferroviaria, quindi o interrata, o comunque poi da una parte, diciamo, che colleghi le colonne di Giuliano, quindi l'attuale metropolitana, passando per Ponteviccio fino poi al mare. E' una cosa che magari forse non sarà realizzata a Giuliano, ma che permetterebbe comunque Giuliano di renderla, diciamo, di nuovo di tutti, perché purtroppo c'è questa differenza tra Giuliano colonne, Giuliano centro fino al Vitovale, che magari i cittadini di Vitovale non si sentono nemmeno poi tanto giulianesi. E fa sì che poi Giuliano sia al centro anche della provincia di Napoli, perché così facendo sarebbe molto più vicina a Napoli città, con tutti i progetti che poi si possono fare, come lo stadio del Napoli che può essere fatto comunque, diciamo, nella zona costiera, e tutte altre opere che possono essere fatte. Questa è una idea che io magari mi sono sempre fatto, poi magari sarà realizzabile, però in politica il sogno, diciamo, deve essere l'elemento fondante. E il centro? Il centro della città? Comunque tu hai investito anche in una città come Fratta Maggiore che ha un centro che è abbastanza vivo. Esatto, purtroppo ecco questa è la differenza tra Giuliano e Fratta in questo momento. In Fratta Maggiore ha un centro abbastanza vivo e ordinato, questo oso dire io, l'ordine che magari a Giuliano, purtroppo per tutta una serie di motivi, ma anche di difficoltà oggettive che ci sono, non c'è. Quindi se io fossi sindaco... Se dovessi un giorno diventare sindaco di questa città... Ok, diciamo subito darei un ordine al centro cittadino, quindi anche di notte, purtroppo noi a Giuliano quando cammiamo di notte è un macello. E questo va a penalizzare la stessa movita e gli imprenditori che poi investono nella vita notturna giulianese, perché magari una persona che già viene da un comune mitofo che può essere di la ricca, o comunque guagliano, o comunque calvizzano, ha delle difficoltà oggettive a pascheggiare, cosa che magari una città che sta crescendo dal punto di vista della movita notturna come Giuliano non può più permettersi. Questa è una cosa, diciamo, basilaria, ma che comunque... Tra le più importanti. Deve essere fatta. Assolutamente. Il tempo a nostra disposizione, insomma, è finito. Io ringrazio Emanuele Bifaro per averci dedicato questa mezz'ora qui da Reteo via Cataste 4, uno spazio, un posto, un luogo che va assolutamente visto proprio perché io quando entro qua allargo i miei orizzonti. Beh, complimenti, complimenti. Sì, 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 è uno spazio aperto. E quindi vi consiglio di venirci a trovare qui a Via Cataste 4 a Giuliano, proprio a confine con Villaricca. Grazie ancora Emanuele. Grazie a voi. Ringraziamo ovviamente Reteo per averci ospitato. Vi lasciamo alla nostra programmazione. Grazie a voi.